Senti Laura, mi dispiace, siamo partiti col piede sbagliato. Ti va di ricominciare? Sì, giù, ci sono rimasta un pochino male, però... Dai, mettiamoci le pietre da sopra. Secondo me possiamo diventare ottime amiche. L'importante è che mi riconosci come regina di questo negozio. Ma certo Giulia, tutto quello che vuoi. Vieni Natalia, ti faccio vedere il negozio. Allora, guarda, qui ci sono le novità. Qui troviamo gli arretrati della Gpop, i Funko Pop, poi vieni, ti faccio vedere. Ma mo chi è questa? Ma che vuole? Ma andamola via! Tocca agi subito, però devi farlo tu che Dav già sospetta di me. Ok, vado. Ciao, Natalia, vero? Sì, ciao, piacere di conoscerti. Senti, ho visto i video, ma è davvero così tremendo lavorare con Giulia. Guarda tesoro, per me ormai no, ma per te sarà l'inferno. Ah, Giulia, ma che hai combinato adesso? Ah, non guardare me, io sono sempre stata qui. Ehi, che hai, che hai, che hai.